Si cominciano a far sentire gli effetti del caldo di questi giorni sull'accesso al pronto soccorso. Questa mattina all'ospedale San Giovanni di Dio a Firenze, su 20 pazienti in attesa di un posto letto, 12 sono anziani con i tipici sintomi della disidratazione, debolezza generale, innalzamento della temperatura corporea, diminuzione della diuresi. I 12 anziani sono stati ricoverati ieri. Il caso più grave è quello di una paziente anziana con febbre e un'alta concentrazione di sodio nel sangue. I pazienti attualmente sono stabili dal punto di vista emodinamico, non hanno febbre, si stanno alimentando autonomamente e i valori si stanno lentamente normalizzando. Necessitano comunque di ricovero per una stretta monitorizzazione. Prosegue intanto l'allerta caldo a Firenze. Il codice rosso è previsto fino a mercoledì 3 luglio. Secondo le previsioni la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi oggi, 36 gradi sia domani sia mercoledì.